Antonio Pramolla è il nuovo presidente della Comunità Montana Alburni. La nomina è stata ufficializzata ieri sera durante il Consiglio Generale della Comunità Montana Alburni che si è svolto in piazza 24 Maggio a Serre. Ad affiancare il neopresidente ci saranno i consiglieri Vincenzo Rosolietti Sicignano degli Alburni che assumerà la carica di vicepresidente, Antonio Sicilia di Correto Monforte che assumerà la carica di assessore e Viola Cuomo di Roscigno che assumerà la carica di presidente del Consiglio. Durante l'Assemblea è stato illustrato il nuovo documento politico programmatico per il rilancio, la manutenzione e la valorizzazione dell'intero territorio alburnino. Questa sera si è insediato il nuovo Consiglio Generale della Comunità Montana dove sono stato eletto presidente della Comunità Montana Alburni. Per me è un onore ma anche un onore importante rappresentare questo ente perché questo ente deve, ha bisogno di rilancio, di un rilancio importante per il territorio e quindi c'è bisogno di un buon governo. Saranno mesi di duro lavoro dove sarò bravo a far conciliare le due cariche da sindaco della Comunità di Serre e di presidente della Comunità Montana Alburni. Il territorio degli Alburni è un territorio abbastanza vasto, molto vasto e quindi parliamo di zone montane, di pianura e quindi c'è bisogno di interventi migliorativi, efficaci che vanno a riguardare tutto il territorio, l'intero comprensorio. Io non voglio che nessuno resti indietro perché, ripeto, i dodici comuni devono avere la massima autorevolezza, devono avere la massima fiducia da parte dell'istituzione e noi siamo qui appunto per rappresentare, come dicevo, tutto il territorio alburnino da Roscigno fino a Serre. Sono onorato di guidare da sindaco di Serre di questa splendida comunità l'intero territorio alburnino e quindi da presidente della Comunità Montana Alburni. Ringrazio la mia comunità perché mi è stata vicino, mi ha usannato e mi ha dato quella spinta emotiva per andare avanti e per far sì che gli alburni possano con me e con la nostra maggioranza rinascere e crescere sempre di più.